Il Centro Studi Asia è lieto di presentarvi il nuovo percorso didattico dedicato interamente alla filosofia Dialogando domande all'origine del pensiero Ogni settimana la puntata vi condurrà all'interno di nuove tematiche filosofiche grazie alla guida di importanti filosofi del nostro tempo Dialogando è disponibile sia in versione video che in formato podcast sul sito www.associazioneasia.it Oggi parliamo con il professor Giovanni Giorgini, docente di filosofia della politica e storia delle dottrine politiche presso l'Università degli Studi di Bologna Cosa differenzia l'ambito della filosofia dall'ambito delle opinioni? Perché alcuni definiscono la filosofia parole su parole? Parole su parole può essere interpretato, penso, quantomeno in due maniere Se adottiamo il principio di carità interpretativa Vogliamo dire che la persona che le ha risposto voleva dire che noi filosofi modestamente Siamo interpreti di testi altrui Insomma la fecchia massima di Alfred North Whitehead Tutta la filosofia occidentale è poco più che note a piedi pagina all'opera di Platone Ecco, questo è un principio di carità interpretativa Altrimenti vuol dire che noi filosofi siamo dei chiacchieroni e null'altro Dei chiacchieroni bravi, visto che siamo pagati per fare una cosa che è diversa da lavorare Che però non è anche questa un'interpretazione, secondo me, del tutto corretta Noi filosofi, come Schumacher usa il volante Noi usiamo la penna e usiamo le parole Secondo me le parole però sono innanzitutto le interpreti migliori dei pensieri di una persona E quindi le parole di solito non si usano a vanvera Noi usiamo le parole per ottenere dei risultati E per, no, cerchiamo di farci capire per ottenere certi risultati La filosofia si è a volte troppo specializzata Però, secondo me, se i professori universitari che insegnano filosofia Tengono presente non solo che il loro compito è, come la vedo io, 50% Fare ricerca, studiare, proporre per quanto possibile dei risultati originali Quindi delle parole, ma non semplicemente delle parole copiate O delle banali interpretazioni Ma, no, una nuova linea interpretativa Una diversa lettura di un testo Insomma, l'apertura di una nuova prospettiva filosofica Per un 50% E poi trasmettere questo allo studente Per l'altro 50% è, secondo me, dare con il loro esempio Mostrare come Se posso usare una parola un po' grande Come si fa a vivere, no? Quando Karl Popper parla della migliore forma di società Nella società aperta e i suoi nemici In realtà ha in mente come lavora la comunità degli scienziati Ecco E allora, secondo me, la comunità Noi filofi siamo, in un certo senso, degli scienziati E può avere questo valore esemplare Se noi, no, mostriamo Con il nostro esempio personale Che abbiamo rispetto per i testi che leggiamo Che abbiamo rispetto per i nostri interlocutori Mostriamo che nella vita bisognerebbe fare così Cioè bisogna ascoltare le opinioni argomentate razionalmente Perché in fondo questo è il nocciolo della filosofia Uno può sostenere qualunque opinione Basta che l'argomenti razionalmente Poi sta all'interlocutore valutare Se quella argomentazione razionale è buona o è insufficiente Ecco E la filosofia, secondo me, si può avvicinare Alla gente comune Non solo agli studenti di filosofia Mostrando come questa tecnica filosofica Argomenta Sostieni la tesi che vuoi Semplicemente lo devi argomentare razionalmente Non puoi rifarti al principio di autorità Non puoi dire è così perché è sempre stato così O è così perché l'ha detto Platone, Martin Lutero o chiunque Lo devi argomentare con argomentazioni razionali E persuasive Questo è un altro punto importante La filosofia è anche nel senso più elevato del termine Rettorica Rettorica cioè Capacità persuasiva Se noi abbiamo un'idea geniale Idea che magari è anche assolutamente vera Ma non persuadiamo il nostro interlocutore Ahimè la nostra idea geniale Non ha alcun risultato pratico E tutto questo, secondo me Può diventare un esempio in piccolo Di come poi si dovrebbe vivere nella vita Cioè Ascoltando le opinioni degli altri E quando si è in disaccordo Valutando razionalmente L'opinione degli altri E decidere poi se noi preferiamo La nostra opinione O se magari quella dell'altro Ha qualcosa di vero Grazie a tutti